Armato di taglierino ha tentato di rapinare l'autista di un autobus ma di fronte alla reazione dell'uomo gli ha svuotato addosso un estintore per poi dileguarsi. E questa la cronaca dell'ennesima aggressione avvenuta a Bari ai danni di un conducente dell'AMTAB. L'episodio si è verificato nella serata di ieri sulla linea 13 all'altezza di Viale Enrico Dalfino nel quartiere San Paolo. Secondo il racconto della vittima che ha presentato denuncia ai carabinieri il malvivente rimasto solo a bordo del mezzo poco prima del capolinea si sarebbe avvicinato pretendendo soldi e telefono cellulare. Il conducente tuttavia si sarebbe opposto al tentativo di rapina scatenando la violenta reazione del passeggero parzialmente coperto dal cappuccio di una felpa che ha afferrato un estintore che era sul bus e lo ha svuotato addosso al dipendente AMTAB. Polvere e schiuma hanno inondato il mezzo mandando in tilt l'impianto di videosorveglianza. L'autista è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale con una leggera intossicazione e è stato poi dimesso dopo qualche ora. L'aggressore invece è riuscito a fuggire in direzione delle campagne che portano alla zona industriale facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Bari che stanno cercando di identificare il rapinatore attraverso le immagini catturate dalle telecamere del bus.